Ricordiamo che, per chi se lo stesse chiedendo, lui è italiano ma i capelli sono giapponesi, questo giusto per chiarire, per quello è il soprannome. Scherzi a parte, Tommy sai che Tocca a te, decidere chi parte. E' Arbe, ti sta bene. Fumperbottuto da Lube, pronto? E' Arbe, allora 5, 4, 3, 2, 1, Voi! Fumperbottuto da Lube, ancora 15, Voi, infassibile, pensa ai suoi boss, un'interessa avversario, ancora 5, 3, 2, 1, cambio! Adesso vediamo la risposta di Tocchi, parte con i ground, la velocità è un'altra componente. Mi abbiamo scusso di Tocchi, in attività, arrivo, non spiegherò, il ritmo è caduto, l'unica è la notizia della palla, ritira su 10 secondi. 3, 2, 1, e c'è a finale, mi fa ferme! La prima è sempre un modo particolare, perché devono tutti rompere il ghiaccio, riprendo in confidenza con il palco. Il secondo giro per questo... E' un modo folkere... L'annuale è stanzionale... Stai bene! Ho vinto... Le vinst, il suo! 5, 3, 2, 1, cambio! I secondi resti sono... Non assedganciando... 3, 2, 1, cambio! non è tali questa sua seconda rata dieci cinque, quattro, tre, due, uno proprio dedica a frost dopo i tentativi di ferro e del back page arriva una dedica di topi e più che una dedica di un ringraziamento a metà della sua ultima rata se non vedete il tuo trono sconto sconto da sei ass tre, due, uno cambio poi c'è un'altra parte di entrati sul suo trono vediamo gli ultimi tre anni per i torni scende alla parte e poi di su tre, due, uno e stop applausi per Tommy Daigoro con la sua curva footwork da move i vostri giudizi ma il loro è quello che conta l'unico che conta so 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 judges ready three two one passa Tommy 3-0 sfida particolare con qualche imprecisione eccoci qua questo è l'industry style un'altra parte di un'altra parte di